Siamo con Mimmo, ciao, benvenuto a Stamo. Allora, hai visto che anche noi finalmente abbiamo il campo? Sì, finalmente, auguri. Grazie. Vedi un bel campo, vedi una bella squadra. Sì. È un augurio che possiate quanto prima raggiungerci in promozione. Almeno nello spazio di tre anni. Eh, va bene. Non prima, eh. Noi non vogliamo fare voli pindarici, ma comunque già quest'anno... No, è nelle vostre possibilità. E ve l'auguriamo di tutto cuore. Eh, niente, c'è tanta gente, è una manifestazione... Ho visto, è il pubblico delle grandi occasioni. delle occasioni, veramente. Speriamo, ora il sabato... Un buon supporto. Il dodicesimo giocatore in campo. Senz'altro. Ora sai che comunque il sabato noi giochiamo, se non hai niente da fare... Potrebbe venire... Sicuramente qualche volta dovrà vederlo. Va bene, salutemi agli amici di Africa e di Platì e tutti, ok? Grazie, grazie.